Questa è una catalettia e stai a stragnare a Xau, che va molto fuori per il vero. La tecnica che fa anche qui se è là è molto buona, perché portai il grito a cominciare con questa musica. Mi chiamate, mi chiamate, mi chiamate. No, 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 no. No, 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 no! Grazie per la visione!